Il mondo dei social media da qui a cinque anni, vediamo, allora è abbastanza imprevedibile perché comunque sia, come vedete vivendolo tutti i giorni, cioè da un mese all'altro cambiano talmente tante di quelle cose che da qui a cinque anni secondo me saranno dei cambiamenti epocali. Per noi i macro trend da seguire sono sicuramente del focus sulla personalizzazione ormai estrema e la community, cioè nel senso mentre i social media inizialmente erano nati come strumento quasi per raggiungere un enorme numero di persone. Questa tendenza ormai si è esaurita nel senso che è vero che sempre più persone sono sui social media ma ormai le campagne o comunque i brand generalisti che colpiscono un gran numero di persone sono nati, sono già esistenti e i nuovi che provano a fare la stessa cosa non hanno lo stesso successo anzi comunque si rivelano alla fine dei fallimenti e la tendenza che si sta avendo sempre di più fortunatamente è quella di andare a parlare ad un pubblico sempre più specifico e soprattutto creare dei legami con questo pubblico cioè la teoria dei mille true fan tradossalmente è un qualcosa che comunque è nato un bel po' di anni fa ma che è sempre più valida e che secondo me sarà ancora più valida nei prossimi anni nel senso che non per forza si devono avere progetti almeno all'inizio iperambiziosi che siano per forza coinvolgenti di milioni di persone. secondo me a livello di lungo termine si deve avere una visione per avere magari un impatto su milioni di persone ma nel breve termine si deve valorizzare quello che già si ha e partire dal piccolo quindi creare una piccola audience fidelizzata che sia veramente fidelizzata e che ci supporti in tutto e per tutto per poi riuscire ad avere quindi un tra virgolette un low brand in questo senso da portare avanti e espandere sempre di più questa secondo me è una tendenza che nei prossimi anni sui social ci sarà sempre di più non ci saranno più paradossalmente la tendenza ad avere i numeri i numeri intesi come numero di follower un grande numero di like ma ci sarà la tendenza sempre maggiore qualità